Un dettaglio, una curiosità, un qualcosa che tu hai visto, vissuto, saputo nei tuoi ultimi incontri con i fratelli del cielo. Sì, forse, non lo so se è una vita assoluta, ma mi hanno detto che sono fisicamente sulla terra molti di loro perché devono tutelare questi 8-10 milioni di persone, quindi ci vedranno fisicamente, anche se camuffati al bar, eccetera, e daremo segnali che siamo noi. Interessante. Adesso Giorgio sto seguendo… Questa è una rivelazione, no? Bella. Ovviamente voi li vedrete con il corpo, vestiti con il vestito come me, però avranno gli occhi particolari, potreste vedere una luce particolare. L'altro giorno un ragazzo mi ha scritto, mi ha detto che ha incontrato uno che sembrava… Un extraterrestre. Sì, proprio se è un scena, mi ha detto, guarda che ti menavigli. Ora, non è che dovete pretendere che dal cielo alla terra, che al bar o al ristorante, se no casca tutto il bar, no? Sì, sì. Però ho dei segnali che capirete che sono loro. Sì, sì, magari aprono l'impermeabile e c'è la tuta. È la tuta, tipo Superman, no? Comunque Giorgio, sto seguendo un caso molto interessante messicano, ho scritto un lungo articolo che ti ho mandato. Sì, che pubblicherò. Molto interessante, c'è molta fenomenologia e materiale che per adesso si è dimostrato. Di fotografia, no? Ha fatto delle foto di giorno, di roba metallica bellissima. Sì, quelle che abbiamo visto. Quelle che abbiamo pubblicato, poi Santepagano, che saluto se ci sta ascoltando, bravissimo, ha fatto le analisi, addirittura l'articolo è stato pubblicato anche sulla rivista, però il materiale è tantissimo. Quest'articolo che ho scritto sono più di 20 pagine. Anche Kamehameha Ho-san è a corrente, no? Cavolo, certo, assolutamente. Infatti sono riuscito ad arrivare a questa persona tramite uno dei suoi amici. Benissimo. Viva gli extraterrestri!